Ancora pochi giorni e la webcam di Castelluccio di Norcia tornerà finalmente online. Vogliamo ancora una volta ringraziarti per aver partecipato e sostenuto il nostro progetto per la riattivazione della storica webcam. Abbiamo completato l'acquisto della strumentazione, in questi giorni stiamo predisponendo l'attivazione dell'impianto fotovoltaico. Ti ricordo infatti che la webcam di Castelluccio sarà completamente autonoma, alimentata esclusivamente dall'energia solare, riducendo così a zero le emissioni di CO2 in atmosfera. Abbiamo già attivato la nuova stazione meteo. I dati saranno presto disponibili nella pagina web dedicata alla webcam di Castelluccio. Riceverai presto la ricompensa che hai ottenuto sostenendo la nostra iniziativa di crowdfunding. Ti informo inoltre che l'evento inaugurale della webcam è stato programmato per domenica 23 giugno alle ore 11 a Castelluccio. Ci ritroveremo proprio sotto il casotto che ospiterà la webcam in via Monteveledda e gli daremo il nostro bentornato. Ti aspettiamo!